Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza ci sono 4 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione Mare è chiusa l'entrata di Montelupo. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!